I militari della Guardia di Finanza di Taranto hanno denunciato 132 persone delle quali 73 sono finiti in manette e hanno sequestrato 28 autocisterne per trasporto carburanti del valore di 7 milioni di euro nell'ambito dell'operazione Mare Nero che ha portato allo smantellamento di un'associazione per delinquere dedita alla truffa e al contrabbando di prodotti petroliferi. I soggetti coinvolti avrebbero sottratto alla raffineria Eni di Taranto per poi rivenderlo in nero ingetti quantitativi di gasolio destinato alle navi gravato da imposte più basse. L'associazione criminale aveva come promotore il presidente del consiglio di amministrazione di due società di trasporti di carburanti con sede amministrativa a Bari e legale a Taranto, coinvolti anche dirigenti, funzionari e dipendenti della raffineria Eni di Taranto, uno spedizioniere doganale, titolari di depositi e distributori stradali di carburanti, soci e dipendenti di aziende di trasporti di carburanti ed autisti di autocisterne. Ieri sera gli agenti della polizia di frontiera in servizio presso il porto di Taranto hanno sventato il furto di un ingente quantitativo di rame. Gli agenti avevano notato un insolito movimento di mezzi e di persone nei pressi del cantiere della piastra logistica. Giunti sul posto hanno recuperato quattro quintali di cavi elettrici del valore di 3.000 euro e numerosi arnesi atti allo scasso. Nel cantiere è stato inoltre trovato un mezzo sollevatore bobcat ancora in moto, sul quale era stato caricato un altro grosso fascio di cavi elettrici. Gli attrezzi sono stati sequestrati, il rame è stato restituito all'azienda proprietaria. In corso indagini per risalire le autori. Per tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale due persone di nazionalità rumena sono state arrestate dai carabinieri di Castelaneta. La scorsa notte era giunta al 112 la segnalazione di un'autovettura sospetta con delle persone a bordo in Contrada Chiulli dove insiste un campo fotovoltaico. Alla vista dei militari i due rumeni hanno scavalcato la recinzione dell'impianto e sono fuggiti a bordo della loro auto. Dopo un breve inseguimento sono stati presi. Sono un 18enne e una 22enne che intendevano rubare i pannelli fotovoltaici. Sono stati trovati in possesso di numerosi arnesi atti allo scasso. Ora si trovano nel carcere di Via Magli. Il 29enne Antonio Cava è finito in carcere per spaccio di sostanza stupefacente. I carabinieri dopo un servizio di osservazione nei pressi della molto frequentata abitazione dell'uomo al quartiere Tamburi hanno proceduto ad una perquisizione nel corso della quale hanno trovato un involucro in cellophane contenente 41 grammi di eroina nascosto negli slip e 910 euro ritenuti provento dell'attività di spaccio all'interno di un cassetto della cucina.